Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sfogo Oggi sono qua a parlarvi della situazione con cui ho avuto a che fare anche io Io penso, ho detto, boh, dai, con tanta gente che ha parlato di sto film di Army of the Dead, di Zack Snyder Penso che non mi dovrebbero prendere in mira Ma quando mai qualche stronzo o stronza dovrà venire sotto il mio canale a rompermi i maroni Ed è stato così E sono venuti questi personaggi, anzi, grazie a loro ci sono stati vari commenti, quindi grazie Che avete fatto più movimento alle vostre stronzate E io sono stato un po' al gioco delle cazzate loro Fino a che giustamente vanno a scadere negli insulti più coloriti nella mia persona E anche più quella cosa mi fa girare più il cazzo a toccare anche la mia ragazza E lì, ragazzi, sbagliate completamente Allora, io posso capire tutto Cioè uno può criticare quello che vuole Però, porca puttana, la gente mette la famiglia O le persone che ti stanno vicino fanno davvero cacare al cazzo Siete delle merde Inutili pure Quindi Niente, sono stato insultato nelle maniere Non faccio ridere Che il mio canale è piccolo E altre stronzate Mi hanno dato del poveraccio Che io almeno faccio i video su YouTube Così Per passatempo E non mi metto a leccare il culo Come vedete non c'ho ne un Patreon Non mi metto a dire Quando faccio una recenza Dico Donatemi i soldi Io non chiedo proprio un ben niente Quindi il poveraccio Sa suo padre Che va a spaccare le pietre Per 20 euro al giorno Quindi Questo genere di merda Mi sta dando fastidio Cioè, allora ragazzi Se uno mi viene a dire Non capisci un cazzo Ma un po' Lo posso accettare Ti dico un po' La mia Perché 20 anni E dico 20 anni Che vedo film horror Di tutti i generi Di tutte le epoche E mi vengono fuori Certi stronzi Che non sanno un cazzo Di cosa hanno visto Nella loro vita Perché soltanto Zack Snyder Perché se sarebbero stato Un altro regista Gli avrebbero leccato il culo Fino l'indomani Ragazzi Zack Snyder Fa film Di intrattenimento Lo capite Sì o no Se voi non vi piace Non ve lo guardate Se dovete criticarlo Non criticate Fatevi i cazzi vostri Anziché rompemi i coglioni A me E a quello là Cioè, ma ragazzi Avete saputo Che quando è stata La tragedia Che ha avuto Zack Snyder Che è morta una figlia Cioè, tutti quando Gli hanno rotti i coglioni La gente dice Che bello Siamo contenti Finalmente così Vai in depressione E non giri più film Ma come vi permettete Ma come vi permettete Ma chi cazzo siete Che voi siete Il nulla cosmico La merda Ma meglio Fa film di merda A sto punto Che fa Gli stronzi Segaioli O sdinalatrici A rompere il cazzo Che questi Che questi non scopano Per nulla Perché ragazzi Chi commenta Negativo Chi rompe il cazzo Agli altri Che non trombano E ci potete mettere La film E che tutti quelli Che scassano il cazzo Sono senza amici Senza una fidanzata O fidanzata Che la chiavano E hanno una vita Di merda Io ragazzi Al posto vostro Non lo so Me ne anderei Uno psicologo Mi farei curare Troverei un modo Per migliorare la mia vita Io il mio passatempo È questo Fare le recensioni Se non vi piacciono Andate altrove Non rompentemi i coglioni A me Ok Che mi ci metto lì A dispondervi E la cosa diventa infinita Perché io dico una cosa E quella ci prende Ci si attaccano Alle cose che dico Ma che cazzo Minchia Ma veramente Avete questo passatempo Da passare insieme a me Ma che vita di merda fate Di domenica poi A scriccazzate Dio buono Manco le facce Ci mettono Manco le facce Si mettono Cazzo Commentano con Immagini Di videogiochi O film O cinecomics Ma che cazzo siete E mi dicono a me Sei piccolo Sei un poveraccio Ma andate a fanculo Ah Cioè Io ragazzi Veramente Mi dispiace Che dovete vedermi A me Che mi incazzo Io Lo scrivo Perché alla fine Faccio i video clickbait Sono stufo Che non vengo capito Né Compreso da certe persone Io sono contento Che c'ho la mia La mia schiera Di iscritti Non come dicono altri Che per altre persone Sono soltanto Cazzo di numeri O fan Non so Non so Un rocchettaro Son testa De cazzo Che fai video Non sono Una pop star O un attore Sono un coglione Quindi Massimo Possiamo dire Seguaci Ma neanche Non è una setta Quindi alla fine Iscritti Siete per me Persone Che condividiamo Questa passione Ma ci sono sempre Queste persone qua Che vanno a rovinare Un po' tutto E tolgono Diciamo anche Dire voi Devo commentare Con il poco tempo Da commentare che ho Nel 90 la giornata Perché non so Come questi Che se girano I pollici Io mi metto a commentare A ste merda Che sbaglio pure Colpa mia Colpa mia Che non vado a commentare Per dire Qualcuno di più Diciamo Interessante Perché ragazzi Mi è capitato Tante persone Che mi hanno Commentato Negativamente Ma alla fine Ci sono diventato Ci siamo capiti Ci siamo Chiariti Subito Perché sono persone Intelligenti Ma anche Adulte Ma anche Non buttiamo Nel cesso Anche Ragazzi Più giovani Che hanno compreso Il mio Modo di fare Il messaggio Diciamo che Trasmettono I miei video Certe persone Non comprendono E vogliono subito Attaccarmi O sul mio personale O sulla mia persona O sulle persone Che mi stanno attorno E a me mi girano I coglioni Ok Perché veramente Se ragazzi Uno mi dice Fai schifo Fai cacare La qualità video Fa schifo Come dire Le luci Non sono buone Allora io ti do ragione E cerco di migliorarmi Ma se un film Piace O non piace Questo è il fatto Perché alla fine È facile ragazzi Quando io parlo Di tutti i film Di merda Sì Sono capitato Che tanti film Di merda Tanta gente C'era I suoi detrattori E in mano Rotto I maroni L'anno scorso E anche quest'anno Qualcuno Ne è uscito fuori A dire che io Non capisco Un cazzo Dei cinema Toccando anche Grandi classici Diciamo Grandissimi classici Di alcuni film Registi importanti E sono stato Diciamo Bellamente attaccato Dicendomi Che non capisco Un cazzo Io ragazzi Ormai ci sto Mi dovrei Abituare Però Certe volte Quando mi vengono Fuori questi qua Che forse Ancora ciucciavano La tetta Della mamma E io vedevo Pranemente Un sacco Di film Studiavo Leggevo libri E questi Vengono fuori Con le loro Puttanate Perché Ragazzi Un film Ha il loro pubblico Ok Prendiamo Fast and Furious E' un film Del cazzo Di merda A me fa schifo Però Per l'intrattenimento Che ti da Per me Becero Perché alla fine Gli unici Che salvo Sono un po' Il 7 Gli ultimi Parlo Il 7 L'8 I primi Sono meglio Per me Perché l'aero Più incendroso Sui cazzo Di gare Grandestine Come ora Che sono diventato Supereroi anche E anche Lo spin off Non mi è dispiaciuto Di Fast and Furious Quindi E' un pubblico Diciamo Che vuole spegnere il cervello Questo Il film di Zack Snyder Anzi E' un intrattenimento Un po' Più di qualità Cioè La regia E' ottima E' un'ottima fotografia Un ottimo E' Comparto tecnico Ma cazzo Gli puoi di Che fa schifo E dicono Eh Il film della salina Ma d'alto budget Ma andate a cagare Va Che voi non sapete Manco Un cazzo Farvi due In una padellina Dai Per favore Va Andate a A dire a uno Che prende Si è gestito Tutto lui da solo Non siete gestiti Manca la vostra vita De merda Sapete gestiti Porca puttana Ragazzi Questo è tutto Riferito a questa gente Che rompe il cazzo Non ho Contro nulla Contro di voi Quindi ragazzi Che cosa altro Devo dire Più che altro Che bestemmiare A loro Dio In cielo Ci dovrebbe Semmiare Veramente Tutti i santi Del calendario Sperando che Spunta il loro nome Perché Ragazzi Siamo Veramente Questi qua Che si fanno I fighi Detro la tastiera Che sono questi qua Sono stati pure anche Bullizzati a merda Quando sono stati a scuola Rincoglioniti Loro Quindi si sentono forti Fighi Eh no Dietro la tastiera O dietro il cellulare Sparacazzate Manco facendo mostrare La loro faccia Veramente Siamo tutti bravi No A insultare Distronzate O fare anche del male Perché ci sono persone Che la prendono veramente male Alla fine io mi sfogo su di voi Cioè mi sfogo su queste merda Facendo qualche video Ma c'è gente che veramente Che sta male Chiude il canale Io ho visto persone così Ma fate cacare Porca puttana Ma a me lo dimmi Sai mi fa schifo il film A te è piaciuto Basta No mi dici Una mi dico Non vanno a dire a me Ah ti è piaciuto il film Non capisci un cazzo di film di zombie Che poi Certa gente mi va A parlare di cose Che vengono fuori da loro Di videogiochi Che hanno cambiato completamente Lo stile originale E mi vengono a criticare a me Che lo stesso film E' ispirato a questi giochi qua Di queste persone qua Che amano Perché tra le immagini che avevano Avevano alcune immagini dei giochi Ragazzi Non voglio fare né nome né niente Perché non sono il tipo di creare Quei flame O Sulti vari Io per me Mi hanno fatto fare un altro video oggi Quindi Grazie stronzi di merda E senza Vita di merda che fate Questo è Quindi Farete le vite Chiuse In quei cazzo di Città di merda Ragazzi Io mi scuso con tutti voi Per Per l'incazzatura Ma Non posso farci nulla Veramente A me Quando mi vanno a toccare Anche i parenti E cose personali E inizio a Incazzarmi A poi a dirmi Che sto Poveraccio Soltanto perché C'ho pochi iscritti Cazzo significa A testa di cazzo Che ci stanno Un sacco di persone Stanno pochi iscritti Perché ci stanno Le merde Che fanno le cazzate Chi scorreggia nei bicchieri Quelli là Sono Vero Chi bestemmia davanti a un videogioco Quelli sono buoni Chi fa le soliti video di merda Su minecraft O five night freddies O altre puttanate di fortnite Quello va bene Minecraft Ste minchiate Vero Questo Quello va bene Una persona che vuole Aprire qualcosa Di parlare Di qualche cosa Deve in questa agenda A rompere i coglioni E ti insulto Ai pochi iscritti Ma Io Non so cosa Attravervi ragazzi Perdonatemi Per lo sfogo Ragazzi Ma Dovevo Alla prossima